Ciao a tutti ragazzi qui è Name of Dark e oggi siamo in un nuovo video sul terzo episodio della Name of Dark Vi inizio subito a dire che in questi giorni o in questi mesi farò solo una tipologia E secondo voi ciao Dark Shadow non l'ho ancora presentato saluta e saltella ecco bravo Ciao oggi costeremo un altare dei 100.000 iscritti Non dei 100.000 iscritti appunto oggi finalmente è il giorno in cui siamo arrivati a 100 iscritti Quindi grazie mille ragazzi perché diciamo che iniziare un canale youtube è molto difficile E quindi ecco ci ha lasciato Allora oggi faremo un altare con lì sopra Con lì sopra l'altare Cioè Con lì sopra il Sì ora te la do Con lì sopra il La scritta dei 100 Allora Noi in pratica Noi in pratica dovremmo farsi Di cosa costruisci Però la cosa pratica I ratteri adesso costano E' un parecchio Io vorrei tipo una specie di strada Eh Aspetta ecco ci rivediamo quando avrai finito il terreno Prima fase completata E' ok ragazzi Allora Ora abbiamo finito la prima fase Lo so l'ho appena detto però Ora Basta fare tipo Allora ci commetteremo Degli cammini perché lo so Ah si per far le sedie Per far le sedie Questo lo prendo io Aspetta Opla Ti piace? Così almeno ci mettiamo in shift E guardiamo Quella roba lì Lì sopra Che dopo ci sarà un buco Con suo scritto 100 Tutto pieno di torce Tutto Vabbè ci vediamo Allora Ora che dobbiamo fare? Dimmelo Dark Intanto mangiamo Eh oh Te 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 Devi stappare Il Cosa Devi stappare Devi stappare Vai Stappare Vabbò Ecco raga Stiamo per iniziare Pungiamo il bottone Al mio via Vai 3 2 1 Via Olè Il tuo non parte Gialli e rossi Viva i 100 iscritti Viva i 100 iscritti 100 iscritti Basta basta Ok Io direi che per questo viene tutto Basta 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 Ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.